Dietro a quello che abbiamo detto in apertura, una settimana piuttosto brutta, noi abbiamo cercato allora un altro esempio di vita reale, di vita familiare, in un club di serie B molto molto interessante. Siamo andati a Lentella e abbiamo scoperto questo. Noi siamo una realtà che è rimasta familiare attraverso tutta questa cavalcata tra le categorie che ci ha portato a un traguardo che al momento ci pare ancora incredibile. Quello che ci ha portato, e che nel caso specifico ci interessa, questo avanzamento di categoria è stato avere tanti ragazzi che vengono da noi nelle nostre scuole calcio. E siccome oramai siamo importanti a livello nazionale, arrivano questi ragazzi anche da parecchio lontano. Per i ragazzi di questo convitto abbiamo ritenuto di avere dei doveri, siccome siamo una famiglia ci comportiamo come tali, cerchiamo di offrirgli quello che offrirebbe a nostro giudizio una famiglia ad un adolescente che vive in casa. Questo a me sembra doveroso nei confronti dei ragazzi e nei confronti dei loro genitori. E quindi ci teniamo che abbiano una formazione scolastica adeguata, non solo perché questo fa parte della crescita umana della persona, ma anche perché gli renderà più facile e possibile il fatto eventualmente di passare a quello che si chiama il famoso piano B. Le difficoltà che in questi anni abbiamo notato sono le difficoltà maggiori, sono proprio nell'ambito della matematica. E allora di conseguenza per cercare di aiutare questi ragazzi nel loro percorso scolastico, soprattutto per quanto riguarda la materia, che poi è sempre stata la pecora nera per tutti o quasi tutti, si è deciso quest'anno di fare un test d'ingresso a tutti i nostri giovani calciatori per quanto riguarda quelle che sono le conoscenze, le competenze pregresse proprio nell'ambito della matematica. Anche questo perché in questo modo noi sappiamo qual è la situazione di partenza. Noi li facciamo lavorare quelli che vogliono, quelli che si sentono naturalmente. È un progetto teatrale con i ragazzi disabili. È un progetto che dura tutto l'anno, parte ottobre e finisce a maggio con uno spettacolo che ogni anno è sorprendentemente bellissimo, nonostante le difficoltà, la disabilità e ogni cosa. E nel corso di questi mesi si vede che fra i ragazzi, i nostri ragazzi e i calciatori, si instaurano dei rapporti di autentica e vera empatia, amicizia e solidarietà. È una cosa importantissima per la crescita umana. Noi facciamo ciò che ci piace e loro magari ciò che riescono ad essere felici anche con poco ci fa apprezzare ancora di più ciò che facciamo noi. Queste sono gratificazioni ancora superiori a quello che riguarda l'ambiente calcistico. Perché comunque riuscire a finire la scuola senza essere mai bocciati, comunque diciamo per noi che facciamo calcio non è cosa da tutti i giorni. Eh sì, forse Patron Gozzi vorrà arrivare in Serie A, però per noi quelli della Virtus ce lo sono già in Serie A con queste iniziative. Tra l'altro a breve partirà anche un'altra nostra iniziativa che ci vedrà coinvolti con una società di Serie A in campo. Dettagli più avanti. Vedremo più in Serie B. Fatti tragici di Parigi, citati da Manuel, con la distanza giusta presa da Morosini, non con il silenzio. E allora a proposito di integrazione, serve anche a volte tracciare un sol conetto prendendo le distanze da quelli che sono stati delinquenti, attentatori, definitele come volete. Siamo ancora stati a lentella perché ci sono due giocatori di religione musulmana che hanno voluto dire la loro. Partiamo da un presupposto che a tutti i livelli nel nostro mondo la diversità c'è tra di noi. E spesso la diversità fa paura perché giustamente è un venire a contatto con cose che io non conosco, con cose che io non capisco o con cose che mi danno fastidio, con elementi che per me sono un disturbo, quindi sono una paura. Invece stiamo scoprendo in questi anni come nel mondo del calcio, in un mondo anche così particolare, dove però le diversità vengono fuori, come la diversità può essere una ricchezza, può essere un cammino, può essere un accompagnamento, può essere un'accoglienza delle diversità e può essere anche un prendere sulle spalle le diversità degli altri che spesso sono ricchezze, ma a volte anche le pesantezze, i dolori, le difficoltà. Ed è per quello che poi una volta che si fa questo cammino insieme, che soprattutto si cammina insieme, ti rendi poi conto che non c'è differenza di religione, non conta essere musulmani o cristiani, ma conta davvero volersi bene che vuol dire volere il bene delle altre persone. Ed è per quello che io, grazie a Dio, non ho mai avuto nessun problema relazionale perché poi la diversità diventa un'occasione ancora di più per voler bene a me e a loro. E' inspiegabile quello che è successo per noi calciatori. Non so cosa abbiano nella testa certe persone per attuare queste azioni. Era una partita con quasi 80.000 persone presenti. Farsi saltare con delle bombe è veramente un gesto incomprensibile. Spero non accada mai più nulla di simile. Il nostro mondo non è certo questo. Spero veramente non si ripeta più una pazzia del genere. Come ha detto Ibra, è stato terribile per tutti noi. Le cose successe e viste sono assurde. Speriamo che il dolore passi nei prossimi giorni. Spero solo che tutti continuino a pregare per le vittime e per le famiglie. Franco Magliano, Keita, Senegalese e Pape hanno voluto giustamente prendere distanze da quello che è successo. Sicuramente siamo d'accordo perché, come dicevamo prima, è un momento nel quale il silenzio non può bastare e purtroppo non solo le preghiere. Manuel, andiamo sul calcio giocato.